amici sono qua per presentarvi un gioco di cui ci saranno delle challenge il gioco in questione è né si né no sono qui con la mia amica Alessandra costato tipo un sacco di tempo trovarla però finalmente ce l'abbiamo ecco però vogliamo dedicare questo video a chi? a Stefi e nonna Adele chi non sa cosa sono basta cercare a youtube nonna Adele porno e ma facciamo l'unboxing ok lo faremo un piccolo testo perché molto presto ci saranno che cosa ci saranno le sfide ah sì assolutamente team nonna Adele contro timbu tu quindi ecco ci siamo ci siamo sono emozionati sono emozionati ecco ne si ne no non si vuole aprire è una dura lotta ma che... aspetta eh ce la faranno non si apre ma cosa aspetta eh allora ce la posso fare ce la posso fare hai visto che è bloccato ancora non si vuole far aprire è perché è nuovo eh sono qua eh ok ce l'abbiamo fatta signori cosa c'è dentro allora eh libretto di istruzioni ovviamente il tabellone ma è piccolino pensavo fosse più grande va a domandare non Adele vabbè ma lei piace lei non discrimina poi due mazze di carte vabbè due mazze di carte una che è è carte adulto e l'altra è carte bambino facciamo vedere abbiamo il capezzolino come lo chiamava Stefi che in alternativa lo si può usare per chiamare qualcuno ok e poi le piedine le piedine le piedine o le piedine non lo so come volete le piedine allora facciamo un... voglio fare la prova allora direi che possiamo... destra o sinistra? sinistra allora carta bambino è facile allora vai allora vai spesso al cinema? forse ah però abbiamo detto cosa è lo scopo di questo gioco non si può dire né si né no se no viene eliminato se no viene eliminato puoi dire non... no no non si può neanche dire no beh se dici non lo so allora volevo fare se riuscivo eh allora vabbè allora vai spesso al cinema? forse hai mai visto dei cartoni animati? non lo so al cinema o alla tv? al cinema hai detto tv? ho detto cinema qual è il tuo cartone animato preferito? Phineas e Ferb e nuovo? Timone Pumba lo danno adesso in tv? probabilmente bravo yeah oddio è per i bambini ecco perché adesso lei vi farà gli adulti gli adulti allora ecco facciamo qua così eh non si... non va fuoco allora hai mai fatto scinautico? ehm tic tac tic tac tic tac ovviamente qualche volta ok e surf? che cos'è? preferisci surf o windsurf? mangiare hai detto surf? no ho detto cagare ci vogliono delle belle onde per fare il surf vero? delle belle scorpazzate di merda e per fare windsurf ci vuole il vento? no ci vuole... no l'hai spazzata! sbagliato te la stavo pure dando buona eh perchè non me ne ero resa conto però sono curiosa di aprire però no queste qua sono quelle più difficili eh si te l'ho detto che ce l'ho fatta perchè erano facili no te io ti ho fatto fare le... quelle da bambino eh appunto quelle da bambino perchè... da pampine da pampine eh questo gioco non vuole farsi aprire eh 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 nonadele però si eh 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 si perchè stiamo continuando a dire nonadele 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 cioè per noi nonadele è il... è il nostro mantra di vita il nostro mantra tutti vorrebbero una nonna come lei come ha detto la Stefi è la nonna che tutti vorrebbero esattamente unboxing in me mi sfoglio in diretta ma mannai la cagna? non si riesce vuoi che provo io che ho più unghie? vediamo eh signore e signori un Daniel selvatico che non riesce ad aprire la confezione intanto che loro guardano me che spacchetto una faccia concentrata non dimenticate di iscrivervi al canale attivare la campanellina seguitemi anche sull'altro canale su tutti i miei social e... e niente ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta intanto che io apro l'altro mi fai questo ok va bene continuiamo quanti anni hai? 36 sei molto vecchio allora? vecchissimo quanto sei più vecchio di me? molto allora sei più giovane di me ho detto che sono vecchio fino a che età sei più giovane? a 36 quando hai superato il limite? ieri ehm... si l'hai detto te l'ho sentito che cosa? hai detto si ho detto il limite va bene bene per essere chiari quanti anni hai? 37 io penso tu sia vecchio tu no? certamente hai detto si? ho detto che non lo so ah no no ce l'hai fatta non lo so ci sta ok adesso io ne faccio una a lei oddio santo va bene va bene la numero... aspettano si si la 5 però si cambia la numero 5 ok è vero che le donne guidano meglio degli uomini? gli uomini guidano meglio pensi che le donne siano brave a parcheggiare? le donne sono bravissime gli uomini sono più aggressivi delle donne alla guida? più aggressive le donne gli uomini vanno più veloci in macchina? certamente vuoi essere una ferrari? ferrari? tutta la vita hai detto si? ho detto ferrari tutta la vita hai mai guidato una ferrari? probabilmente 5 anni fa sai guidare? abbastanza hai la patente? credo pensi di essere un buon guidatore? sono un buon guidatore brava 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 e niente questo qui è una delle sfide che vedremo vedrete poi non so quando lo caricherò però questo gioco c'era dovevamo prenderlo già da molto tempo e oggi visto che tra pochi tra una settimana abbiamo una rigliata abbiamo detto lo dobbiamo fare questo questa cavolata dobbiamo farla assolutamente siamo soddisfatto comunque adesso non so se mi si vede niente io e Ale vi salutiamo io adesso provo a a richiuderlo non ce l'ha fatto se lo prendi di qua e di qua insieme boh ce la farà? riprendermi tu? dai 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 perché mai? è perché era più carino da vedere ma è stato così bene si dovuto arrivare la carta ok scusate la lucetation ma siamo siamo in un parco ok ci sono quasi forse Sì Ok Oh, è una roba che non potete capire Tieni, tira su Oh, finalmente Non chiuderlo, portalo in giro così Chiuri, chiuri E niente Vi salutiamo Guarda come si apre bene adesso Ma che cazzo E' potà Vi salutiamo Grazie per la bella visita E niente Rimanete con noi per Le sfide di Nessì, né no Grazie per la bella Grazie per la bella